Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz e oggi partiamo con l'unboxing di Valore e Virtù, il secondo mazzo commander di Terre Selvagie di Eldraine. Come sempre, vi chiediamo di arrivare a 200 mi piace per sbloccare subito l'unboxing del bundle. Allora, qui ero partito molesto, lo stavo aprendo prima del video, perché ero fuso. Ero fuso, siamo qui al mattino presto per registrare tutti i video da portarvi in questo weekend. Allora, Valore e Virtù, il mazzo Farabutti e Spiritelli che abbiamo appena visto non è malvagio. Questo mazzo qua invece ci sembra un po' più complicato perché è un po' più tematico rispetto alle nuove meccaniche di Terre Selvagie di Eldraine. Quindi andremo a vedere se ci dice qualcosa o se ci lascia un po' impalpabili. Allora, qui abbiamo la Collector Booster Sample Pack, qui abbiamo Portamazzo e Segnavite che andiamo ad eliminare subito. Mentre che Robe cerca di aprire l'impossibile confezione del mazzo, andiamo a vederci la Collector Booster Sample Pack. Quindi due carte, c'è un token e due carte, in teoria, sì. Abbiamo Markover, attenzione, attenzione, omniscienza, omniscienza versione, versione anime. Che bomba, che bomba di carta che è ragazzi, signori. E qua una curiosity un po' più lurida, ma omniscienza, quanto cavolo è bella omniscienza. Spettacolo, spettacolo di carta. Spettacolo di carta. Adesso siamo tutti in attesa di che Robe che riesce ad aprire con grande destrezza il mazzo. Le sue abilità da sbustatore sono conosciute in tutti i distretti del nord Italia. Allora, il comandante, che abbiamo già visto negli spoiler, costa 4, è un 4-4 che dice Ogni volta Elliver entra nel campo di battaglia o attacca, crea una pedina ruolo virtuoso assegnata a un'altra creatura a bersaglio che controlli. Se controlli un altro ruolo assegnato a quella creatura, metti quel ruolo nel cimitero. La creatura incantata prende più uno più uno per ogni incantesimo che controlli. Questo qui è il ruolo virtuoso. Ogni volta una creatura incantata che controlli, infligge down da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Ok, quindi ci sta. Come dicevamo anche nell'analisi spoiler, la cosa che ci piace un po' di meno è che il ruolo virtuoso non può assegnarlo anche a Elliver. E quindi sarà un pochettino più scarsetta, dovendo per forza attaccare per potenziare le altre. Poi abbiamo qua i pirati, che abbiamo visto sono una meccanica di questi mazzi commander, visto che ce li hanno tutti i mazzi, questi pirati. Poi abbiamo qua il ruolo regale, ruolo virtuoso, più uno per ogni incantesimo. Andiamo a vedere gli altri ruoli, già che ci siamo. Ruolo regale, più uno più uno e IG da uno. Ruolo mostro, più uno più uno e travolgere. Qui abbiamo le copie e qui, non ditemi che ci sono i ruoli qui dietro. Ok, perfetto. Token visti. Abbiamo Elliver e Gilwain, direttore artistico. Costa tre, è un due tre. E quando Gilwain o un'altra creatura non pedina entrano nel campo di battaglia, ha subito controllo, scegli uno. Crea un ruolo regale, ha segnato quella creatura. Crea un ruolo stregone, ha segnato quella creatura. Crea un ruolo mostro, ha segnato quella creatura. Quindi, insomma, questo un pochettino più impattante, perché le creature entrano con già un ruolo assegnato. Quindi questo qui sicuramente, cioè, sì, Elliver è più forte, perché le creature si potenziano un sacco a vicenda e in più fa pescare. Però Gilwain è più, diciamo, efficace. Cioè, entra, gli dai un ruolo e partono già... E partono subito. Diciamo che non c'è un comandante che è nettamente migliore di un altro, a prima vista almeno. C'è da provare. Andiamo a vedere le 100 carte. Bestiame liberato, costa 6 a un 4-6. Quando muore, crea un felino 1-1 con legame vitale, un uccello 1-1 con volare e un bue 2-4 bianco. Metti ognuna di quelle... Metti... No, scusa. Per ognuna di quelle pedine puoi mettere sul campo di battaglia una carta aura della tua mano e un cimitero assegnata ad essa. Allora è anche forte, perché se li assegni anche dal cimitero, tanta roba. C'è almeno il costo 6... Cioè, diciamo, possiamo dire che è quasi fortissima, perché... Metti giù un 4-6 più tre pedine alle quali assegni delle auree dal cimitero. Quindi, molto buono. Pastore dei buoi... Quando muore. Quindi a costo 6 c'è il 4-6. Poi quando muore fa quello roba lì. Ah, giusto. Quando muore fa tutto questo. Comunque ci sta. 4-6 che quando muore fa tutto. Pastore dei buoi. Costa 4-4. Cautela. Non può essere bloccato dai buoi. Quando il pastore dei buoi entra nel campo di battaglia o attacca, un avversario o bersaglio crea una pedina bue, 2-4 bianca, e tu peschi una carta. Quindi onesta. Onesta che dai i buoi agli altri. Sono proprio buoi in questo mazzo. Benedizione dei passerotti. Costa 4-4, incantesimo aura. Ogni colvolta la creatura incantata attacca, rivela carta dalla cima del tuo grimorio finché non riveli una carta aura. Puoi mettere quella carta sul campo di battaglia. Se non lo fai aggiungila alla tua mano, metti l'altra in fondo in ordine casuale. Onesta, onesta. Questione in sospeso. Costa 5-4. Stragoneria. Rimetti sul campo di battaglia una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Puoi rimettere sul campo di battaglia fino a due carte equipaggiamento o e aura. Bersaglio dal tuo cimitero assegnate a quella creatura. Quindi è un rianimino potenziato. Ci sta, ci sta. Eredità gigante. Costa 5, incanta creatura. Quando la creatura incantata prende più 5, più 5. E quando ogni colvolta questa creatura attacca, crea una pedina ruolo mostro assegnata fino a una creatura bersaglio. Attaccante. La creatura incantata prende più 1, più 1 a travolgere. Ok. Quando l'eredità viene messa in un cimitero dal campo di battaglia, falla tornare in mano al suo proprietario. Ok, bella questa cosa che ritorna sempre. Ophi dei gingilli. X più verde. 1, 1. Entra con X più 1, più 1. Quando entra nel campo di battaglia, rivela le prime X carte del tuo grimorio. Puoi mettere sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte aura con valore di mana pari o inferiore a X tra quelle carte rivelate. Poi metti in fondo al tuo grimorio, in ordine casuale, tutte le carte rivelate che non sono state messe. Forte anche questa, perché entra una creatura grossa. Se lo paghi tanto, se lo paghi tanto, metti tante aure già assegnate. Quindi, bello. Fa una plasma argilla. Costa 3, 1, 3, 3. Quando entra, puoi scartare una o più carte terra. Quando lo fai, riprendi in mano fino ad altre tante carte permanente in un terra bersaglio dal tuo cimitero. Ok, ci sta. In un mazzo bianco-verde, dove, diciamo, il pescare carte non è la cosa principale. Questo è ottimo per liberarsi la mano da terre inutili e ciclare la pescata. Paladino Ligno. Costa 2, 1, 1, 1. Fintanto che è incantato esattamente da un aura a forza e costituzione base 3, 3. Fintanto che è incantato da esattamente due aure a forza e costituzione base 5, 5. E cautela. E cautela. Fintanto che è incantato da 3 o più aure a forza e costituzione base 10, 10. Cautela e travolgere. Quindi, poderosissimo. Questi ruoli che girano. Prescelti di Agiani. Costa 4, 1, 3, 3. Quando un incantesimo entra nel campo di battaglia, su di do controllo, puoi creare un felino 2, 2 bianco. Se quell'incantesimo un'aura, puoi segnarla la pedina. Ok. Destino Angelico. Costa 4, incanta creatura. La creatura incantata prende più 4 o più 4, a volare e attacco improvviso, ed è un angelo in aggiunta ai suoi altri tipi. Quando la creatura incantata muore, fai tornare il destino Angelico e manda sul proprietario. Anche questa qui non è assolutamente male, perché fa diventare un angelo potenziato la creatura incantata. Arconte della Grazia Solare. Costa 4. Tra 4 volante legame vitale. Le creature Pegaso che controlli hanno legame vitale. E accostellazione. Quando un incantesimo entra nel campo di battaglia, creiamo un Pegaso 2, 2, bianco e volante. Oh, bello. Che a sua volta avrà legame vitale. Quindi anche questo qui, bellissimo. Ordine Severo. Costa 6, stregoneria. Scegli 2, 3. Distruggi tutti gli artefatti, tutti gli incantesimi, tutte le creature con valore di mana pari o inferiore a 3, o tutte quelle con valore di mana pari o superiore a 4. Ok. Arconte Celeste. Allora, da Teros abbiamo anche carte con conferire. Lui ha una creatura a costo 5, 4, 4, volante e attacco improvviso. Ma se la lanciamo con conferire a costo 7, sarà un'aura assegnata a una creatura. E la creatura incantata prenderà a più 4, più 4, volare e attacco improvviso. Questa qui non mi piace tanto perché è un po' lenta. È un po' grossa da lanciare. È, per quello. Diadema dell'alba. Costa 2. Incanta creatura con un'altra aura assegnata ad essa. La creatura incantata prende più 3, più 3 e ha attacco improvviso, cautela e legame vitale. Questa è fortissima perché costa poco, dà un casino di roba, ma deve essere già incantata, giustamente. C'ha un piccolo malus. L'apparizione di infinite battaglie invece era una carta di figli degli dei molto molto forte. Costa 3 e dà l'apparizione di... Costa 3 come creatura 0, 0. Oppure 4 con conferire come incantesimo aura. Quando l'apparizione di infinite battaglie e la creatura incantata prendono più 1, più 1 per ogni aura che controlli e più 1, più 1 per ogni creatura che controlli. Quindi tanta, tanta roba questa. L'apparizione mi ricordo che era una delle mie carte preferite perché giocavo, giocavo appunto Selesnia Aure. Ti ricordi? Sì, sì, mi ricordo qualcosa là che ti continuiamo a far sacrificare le cose con i dettami. Sì, esatto. Io facevo una creatura incantata, grossa, con mille cose e lui dettami di Erebus, gli uccidevo un serpente o un ratto e dove... C'è un prescetto di fare che gli uccidevi. C'è un prescetto di fare che... Pessimo. Lanzatrice spirituale core. Costa 2, 0, 2. Prende più 2, più 2 per ogni aura assegnata ad essa. Ogni volta lanciamo un'aura possiamo pescare una carta. Bella. Manto degli antichi, costa 4, 5, incanta creatura che controlli. Quando entrano rimetti sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte, aura e equipaggiamento dal tuo cimitero assegnate la creatura incantata. Però la creatura incantata prende più 1, più 1 per ogni aura di equipaggiamenti ad essa assegnati. Bella. Gigante del Manto Reame. Direttamente da Trono di Eldraine abbiamo gettare via, a costo 5 distruggiamo tutte le creature non giganti, quindi bella vrattina. E poi dall'avventura, a costo 7, lanciamo un 7, 7 cautela. Re. Imbrigliare. Costa 4, stregoneria. Rimettiamo sul campo di battaglia ogni carta aura dal nostro cimitero. Solo le creature possono essere incantate in questo modo. Perché ci sono incantesimi, incantaterra. Ok, ci sta. Shalai, voce dell'abbondanza. Costa 4, 3, 4 volante. Tu, i planeswalker che controlli e le creature che controlli, avete antimalocchio. Tappando 6, mettiamo un 1-1-1 su ogni creatura che controlliamo. Shalai è sempre carino. Mistico del Manto Stellato. Costa 2, gli incantesimi che lanciamo costano 1 in meno per essere lanciati. Ogni volta un incantesimo che controlli viene messo in un cimitero dal campo di battaglia, mettiamo un 1-1-1 sul mistico. Onesta, questo qui è un carta buona per scontare gli effetti. Titano Solare, costa 6, è un 6-6 cautela. Quando attacca o entra nel campo di battaglia, possiamo rimettere sul campo di battaglia un permanente con valore di mana pari o inferiore a 3 dal nostro cimitero. Anche questo è molto forte. Sigillo Tempestivo. Costa 3, possiamo lanciarlo come se avesse lampo se controlliamo... No, se bersaglia un comandante, possiamo lanciarlo come se avesse lampo. Incanta creatura, ha indistruttibile la creatura incantata, quindi buono. Estrattore di tributi. Questo qui da fedeltà di Ravnica, mi sembra, me lo ricordo che mi piaceva. Costa 2, è un 2-1. Durante il tuo turno le magie che lanciano i tuoi avversari costano in più per essere lanciate e le abilità che attivano i tuoi avversari costano in più per essere attivate a meno che non sia un'abilità di mana. Onesto. Al di là 1. Al di là 1. Quando muore ci lascia uno spiritello. Bello perché rallenta gli avversari nel nostro turno. Mistica delle essenze. Costa 3, è un 2-2. Le aure assegnate ai permanenti che controlli hanno armatura totem. Che spettacolo. Armatura totem ha un'abilità molto forte. Dice se un permanente incantato che controlli sta per essere distrutto, rimuovi invece tutto il danno da esso e distruggi un'aura assegnata ad esso. Bellissima. 20 di ratta. Costa 5, distruggi tutte le creature che non sono incantate, non possono essere rigenerate. Anche questo qui, stupendo. Essenza dell'orso. Costa 4, incanta creatura. La creatura incantata prende più 2-2 e ha ogni cololta attacca, stappa tutte le terre che controlli. In più armatura totem. Quindi è fortissima. Apparizione dei boccioli. Costa 4, 2-2. Costellazione. Quando lei o un altro incantesimo entrano nel campo di battaglia, peschiamo una carta. Presenza dell'incantatrice. Costa 3. Quando lanciamo una magia incantesimo, peschiamo una carta. Potenza indomabile. Costa 4. Lampo. Incanta creatura. La creatura incantata prende 3-3. Il controllo della creatura incantata può far assegnare da essa il suo danno da combattimento come se non fosse bloccata. Quindi molto, molto forte. Competenza di Rishkar. Costa 6. Stragoneria. Pesca carte pare la forza maggiore tra le creature che controlli. Puoi lanciare una magia con valore di mana pari o inferiore a 5 della tua mano senza pagare il costo di mana. Ottima. Tessitrice del santuario. Costa 2-0-2. Tappa. Raggiungi X mana di un qualsiasi colore dove X il numero di incantesimi che controlli. Buono anche questo per rampare. Campionessa di setessa. Costa 3-1-3. Questo è da Terros oltre alla morte invece. Costellazione. Ogni volta un incantesimo entri nel campo di battaglia sotto il tuo controllo metti un 1-1-1 sulla campionessa e pesca una carta. Buono. Molto buona. Abbraccio della vegetazione. Costa 5. Incanta creatura. Prende più 3-3 e ha. All'inizio di ogni mantenimento crea un saprolingio 1-1 verde. Quindi anche Nettuno degli avversari. Poi le terre base che saranno come quelle del mazzo spiritelli. Abbiamo questa che entra nel campo di battaglia tappata a meno che tu non controlli due o più terre base. Quindi buono. Castello di Ardenvalle. Entra tappato a meno che non controlli una pianura. Ti aggiunge bianco. Oppure tappando 4 di cui due bianchi e lei crea un umano 1-1. Questo che entra nel campo tappato a meno che non rivedi pianura o foresta. Sala della munificenza di Eliod. Terra leggendaria. Tappa aggiungi in colore. Tappa 2 di cui un bianco e lei. Metti in cima al tuo grimorio un incantissimo bersaglio dal tuo cimitero. Buono. La filtro. Il tempio della prosperità. Poi andiamo a vedere subito le altre terre. Che così abbiamo la torre di comando. Il confine di Crosa. Entra tappato. Aggiungi in colore. Oppure tappando 2 lui. Rampiamo una foresta e una pianura. Buona. Passaggio dalle Meriade. Vituganzi. L'albero città. Questo qui tappando 4 di cui un verde e un bianco e lui. Creiamo un saprolingio. E poi abbiamo tante terre base. Sì. Forse neanche di meno queste terre particolari rispetto all'altro. Sì. Sembrano. Sì. Diciamo che ha qualcosa di particolare diverso. Perché la sala di Eliod così. Quindi insomma. Ci può stare. Quella là aveva quella che entrava se rivelavi lo spiritello. Che non era male. Qui non essendoci un tipo. Comunque abbiamo. Danita. Capasce. L'esemplare. Costa 3. 2. 2. Attacco improvviso. Cautela. Legame vitale. Le magie aure d'equipaggiamento che lanci costano nemmeno. Quella che ho usato nel drafti commander. Esatto. Armatura eterea. Carta fortissima. A costo un solo bianco. La creatura incantata prende più o più o più o per ogni incantesimo che controlliamo. E ha attacco improvviso. Dono abbondante. Costa 3. Spacchi permanenti sul controllore fa un elefante 3-3. Visione del saggio. Costa 4. Incanta creatura. Quando entra peschiamo una carta per ogni aura che controlli assegnata a una creatura. La creatura incantata prende più o più o più o per ogni aura che controlli assegnata a una creatura. Acciaio spettrale. Costa 2. Incanta creatura. Prende più o più o più o 2. Tappando 2 ed esiliandolo dal cimitero riprendiamo in mano un'altra aura e equipaggiamento dal cimitero. Buono. Da spada spighe. Carta necessaria. Inviato trascendente. Costa 2. A un 1-2 volante. Le aure costano 1 e meno per essere lanciate. Anche questo molto buono. Da terros oltre alla morte. Maschera ancestrale. Questa è fortissima. Costa 3. La creatura incantata prende più o più o più o per ogni altro incantesimo sul campo di battaglia. Quindi esattamente. Gnarly dell'aura. Costa 3. Le creature con forza inferiore a quella del Gnarly non possono bloccarlo. Prende più o più o per ogni aura sul campo di battaglia. Coltivazione attenta. Costa 3. Incanta artefatto o creatura. Fintando che il permanente incantato è una creatura prende più o più o più o più e ha raggiungere e tappa aggiungi due verdi. Incanalare. Possiamo scartarlo pagando un verde e un'altra umana. Creiamo un monaco umano e un 1 verde. Con tappa aggiungi un verde. Quindi onesto. Filatrice del destino. Costa 2, 2, 3. Le magie e creature incantesimo che controlli non possono essere neutralizzate. Molto buona. Tappando 4 una terra che controlli bersaglio naturalmente. Diventa un elementare xx travolgere rapidità dove x il numero di incantesimi che controlliamo. Che questo potrebbe essere valido. Terreno fertile. Incanta terra. La terra incantata viene tappata per tingere mana. Aggiungi un mana addizionale di un qualsiasi colore. Buono. Trasformazione di Kenrit. Bello. Incanti creatura. Quando entra peschiamo una carta. La creatura perde tutte le abilità e diventa un alce 3-3. Bello. Druida del Paradiso. Quando è stappata anti-malocchio. Un 2-1. Aggiunge un mana di un qualsiasi colore. Essenza del Serpente. Costa 3. La creatura incantata prende più 1-1. E quando fa danno a un avversario peschiamo una carta. Armatura totem. Ranger Silvana. Quando entra possiamo passare il segno a una terra. E aggiungerla alla mano. Propagazione dell'Utopia. Costa 1. Quando entra sceglie un colore. La foresta incanta foresta però. La foresta incantata. Quando viene tappata. Tingere un mana addizionale del colore scelto. Benedizione del Guerra Spino. Costa 2. Incanta creatura. La creatura lotta con un'altra creatura. E prende più 0-2. Quindi onesto. Naturalista di Jukai. Costa un bianco e un verde. Legame vitale 2-2. Le magie incantesimo che lanci. Costano nemmeno per essere lanciate. Ali Splendipolline. Costa 6. La creatura incantata a volare. Ogni colvolta la creatura incantata. Fa down da comattimento a un giocatore. Crea altri tanti saprolingi 1-1. Siona. Capitana delle Pileas. Costa 3-2-2. Quando entra. Guarda le prime 7 carte del tuo Grimorio. Puoi rivelare un'aura tra esse. Aggiungerla alla mano. Metti le altre in fondo in ordine casuale. Quando un'aura controlli viene assegnata a una creatura. Crea una pedina soldato 1-1 bianca. Sigillo Arcano. Anello Solare. Vendetta dell'Insenaltura. Costa 3. Satiro 2-3. Quando un'aura entra nel campo di battaglia. Pesca una carta. E Sir Armond. La Redentrice. Costa 5-4-4. Quando entra. Crea un ruolo mostro. Assegnato a un'altra creatura che controlli. Le creature incantate. C'è un ruolo più uno più uno. In effetti ce ne sono poco di robe che fanno ruoli a mostro. Gira tutto sul comandante. I ruoli sono legati ai comandanti. Vice e principale. E quella carta lì. Perché non... È una carta di Terre Selvagi del Drain. Infatti le altre sono tutte carte... Sono tutte altre espansioni. Soprattutto Terus che... Terus è molto a tema incantesimi. Quindi giustamente. Vedremo se gira bene anche senza comandante. O ha bisogno comunque della spinta. Diciamo che sicuramente le carte che ho visto a tema incantesimo sono molto buone. C'è un zoccolo duro solido. La cosa un po' più scarsina potrebbero essere i comandanti. Che non sono proprio al 100% funzionali. Non danno quel booster in più a un mazzo che vuol girare con le aure. Secondo me. Comunque lo andremo a provare e vedremo. Probabilmente ci smentirà. Vedremo. Direi che è tutto. Al prossimo video.